Ciao a tutti, come fare innamorare di te un uomo? Tre rivelazioni magiche da sapere. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. E ti ricordo il mio primo seminario online sulla legge d'attrazione sarà sul mio canale Felicità Benessere con Massimo Terramasco al quale ti invito ad andare. E il seminario sarà martedì 5 maggio dalle 20.30 alle 23. Per partecipare devi andare su il tastino abbonati, affianca il tastino iscriviti e abbonarti a seminari online. Ti aspetto poi lì il martedì 5 maggio. Allora, veniamo al tema come fare innamorare di te un uomo. Quali sono queste tre rivelazioni magiche da sapere? La prima è che un uomo si innamora dalla testa al cuore. Non dal cuore alla testa. Le donne passano dal cuore alla testa. L'uomo è più facile che passi dalla testa al cuore. Quindi deve vederti come una sfida. Deve nella sua testa pensare, questa me la voglio fare. Questo deve pensare, questa me la voglio fare. Questo è quello che deve pensare. Questa me la voglio fare. E poi, quindi tu gli darai tutti gli stimoli giusti per, affinché lui sia stimolato da questo punto di vista. Ma questi stimoli giusti poi dopo avrà difficoltà a farti, tra virgolette. Tu non ti farai fare. E questa sfida lo intrigherà. Lo intrigherà moltissimo. E essendo intrigato tenderà a coinvolgersi da un certo punto di vista. E poi c'è un'altra cosa molto importante che devi saper fare. Ed è che cosa? È il condizionamento operante. E nella specifica cosa è il rinforzo intermittente. Cos'è il rinforzo intermittente? È quel tipo di rinforzo che ogni tanto dai, ogni tanto non dai. Cioè ogni tanto lo gratifichi per alcuni comportamenti, altre volte non lo gratifichi. Cioè la stessa cosa, talvolta gli dai gratificazioni, anche fisica, affettuosa, eccetera, talvolta niente. Ecco, questo condizionamento operante che ha ideato Skinner, diciamo, ha fatto diversi esperimenti con i topi, ma uomini e topi sono abbastanza simili. Questo condizionamento operante fa sì che lui si coinvolga, si coinvolga ossessivamente nei tuoi confronti. Diventerà ossessivo nei tuoi confronti, in modo dipendente, diciamo così. E la terza cosa, il terzo segreto magico, e questo non è trascurabile, è molto molto importante perché riguarda te, riguarda proprio te. E qual è questo segreto? È che devi avere autostima, amare te stessa ed essere indipendente. Cioè non essere bisognoso. Cioè i tuoi bisogni, devi ficcarteli come fosse una supposta, perché se risulti essere bisognosa non riuscirai a conquistare, non riuscirai a essere dura, non riuscirai a farlo innamorare in nessun modo. Allora, quindi ripeto, dalla testa al cuore, e quindi vuol dire la sfida. Io voglio farmela e le difficoltà ci saranno. Condizionamento operante, cioè rinforzo intermittente, e terza cosa, sii indipendente, evita di essere bisognosa e dimostrati sicura di te stessa. Scrivi nei commenti quali sono le cose che con te hanno funzionato, se provi queste, se alcune di queste hanno funzionato, e quali comportamenti hai messo in atto tu affinché un uomo si è innamorato follemente di te quando questo è capitato. Scrivilo nei commenti, così diamo un contributo a tutti. Ti ricordo inoltre di iscriverti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, ed inoltre il mio primo seminario online sulla legge d'attrazione, che sarà sul canale Felicità Benessere con Massimo Terramasco, e sarà martedì 5 maggio dalle 20.30 alle 23.00. Per partecipare vai sul canale Felicità Benessere nella home page, clicchi su tastina abbonati, e che sta a fianco alla tastina iscriviti, e scegli come abbonamento Seminari Online. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, ciao! Grazie a tutti!